Proponiamo un approccio innovativo per una Ivrea più sostenibile e resiliente energeticamente. Nel contesto della crescente consapevolezza ambientale e della necessità di ridurre le emissioni di gas serra, proponiamo un progetto innovativo per sfruttare l'energia rinnovabile dell'acqua del fiume Dora, che attraversa la città di Ivrea. Contrariamente alle tradizionali dighe e sbarramenti, la nostra soluzione si basa sull'utilizzo di turbine che sfruttano l'energia cinetica dell'acqua in modo sostenibile e non invasivo. Gli obiettivi del progetto sono, promuovere forme di trasporto sostenibile, come i veicoli elettrici, per ridurre il traffico e le emissioni di CO2. Riduzione della dipendenza da fonti di energia fossile importate, contribuendo alla sicurezza energetica della regione e alla riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale. Ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, grazie all'uso di energia pulita e rinnovabile. Il nostro approccio si basa sull'installazione di turbine idroelettriche lungo il corso del fiume Dora, utilizzando tecnologie avanzate per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale. Queste turbine sono progettate per sfruttare l'energia cinetica dell'acqua in modo non invasivo. Installata in prossimità del fiume, incanala l'acqua, generando continuamente energia elettrica. Essendo a bassa pressione è inoltre totalmente sicura per la flora e per la fauna.